Ecco i nuovi contenuti in arrivo per la season 14 di Sea of Thieves. Dal 2 al 9 dicembre tornerà la settimana delle leggende, un'occasione imperdibile per trovare i messaggi leggendari in bottiglia che vi condurranno a viaggi con tesori assai propizi. Questi viaggi vi permetteranno di ottenere oro e reputazione extra, insieme al tatuaggio Vita Leggendaria. Durante questa settimana il personaggio misterioso e i sovrani raddoppieranno inoltre le ricompense di oro e reputazione ottenuti. Arriveranno anche nuovi oggetti nei negozi di avamposti, come la spada pesante spettrale e i stati di armi e falegnami di legno ferro. Verrà aggiunto il nuovo Viaggio della Fortuna, una speciale missione per cacciare tesori di alto valore. Inoltre, da ora navigando nella prima settimana di un aggiornamento, si riceverà un bonus in oro e dobloni. Ma non è finita qui, verrà introdotto il nuovo Dardo Mimetico, un dardo che vi permetterà di assumere l'aspetto di un altro giocatore, perfetto per infiltrarsi a bordo delle navi nemiche. E per chi è abbonato a Xbox Game Pass Ultimate, dal 7 novembre fino al 1 gennaio potrete riscattare il pacchetto combattente festivo, mentre dal 15 al 18 novembre, guardando Twitch, potrete sbloccare nuovi oggetti esclusivi. Insomma, c'è tanto da scoprire e da guadagnare. Buona fortuna a tutti e che le onde siano sempre con voi!